Ma che diavolo? Sembra che l'Alleanza resista ancora. Quella rotaia porta agli archivi. Se Cerberus la prende, arri- Comandate, mi ricevi. A malapena, la tempesta sta causando interferenze. Non dico, 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 non dico. Non ho capito. Questo portellone non dovrebbe essere aperto. Non sembra essere stato forzato. No, bisogna bypassare i protocolli di sicurezza. Qualcuno ha risucchiato l'aria della stanza mentre erano ancora dentro. Sembra che siano morti mentre cercavano di uscire. Questo è brutale persino per gli standard di Cerberus. No. Sì! Dobbiamo presurizzare la stanza. Ci siamo. Abbiamo accesso ai laboratori. Da lì arriveremo alla stazione della rotaia. Ehi, sembra che ci sia una registrazione di ciò che è avvenuto qui. Stazione di sicurezza, mi dicevi? Rileviamo una strana attività qua giù. I protocolli di sicurezza si sono attivati. È tutto sigillato. Dottore, le invierò un rapporto non appena... Ora sappiamo com'è entrata Cerberus. Avrei dovuto capirlo quando l'ho incontrata. Ero così concentrata a trovare un modo di fermare i razziatori. Hai fatto ciò che dovevi. Adesso ho bisogno che ci porti agli archivi. Da quella porta. Ci stiamo avvicinando. Bene. Andiamo. Ci stiamo avvicinando. Ci stiamo avvicinando. Ci stiamo avvicinando. Diciamo. Comandare, ecco, a bordo. Mi entrare per uscire, prima. Perché è risignato? Grazie, l'alleanza ha dato l'inforza. Pronto, grazie. Pronto, grazie. 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 Sì